ricchisce di una nuova opera, si chiama Metamorfotex ed è inserita all'interno dei capannoni ex finta di Città di Castello. Monica Bellucci alla inaugurazione di Metamorfotex, che cosa, che impressione ricevi? Ma per me venire qua è sempre comunque motivo di orgoglio perché Burri è di Città di Castello come lo sono io, quindi spirito nazionalistico per così dire e quindi per me è sempre bellissimo tornare qua e ritrovare tutti e poi chiaramente è anche motivo di grosso orgoglio. Nell'opera di Burri si sentono le influenze della vita vissuta anche fuori Città di Castello ma queste influenze dentro voi che vivete fuori Castello pur essendo differnati si sentono davvero nella vita comune? Assolutamente sì, assolutamente sì perché quando io dico che sono di Città di Castello tutti quanti poi parlano sempre di Burri quindi diventa sempre veramente come ripeto motivo di grande grande orgoglio.